Carissimi amici, carissime amiche, buona domenica a tutti. Volevo fare una serie di brevissimi video stamattina di puntualizzazioni. Ho letto, per caso di Alice Neri, che la guerra di posizioni continua e in queste settimane, negli ultimi giorni anche, c'è quella che si potrebbe titolare la lotta alla guerra del cellulare. Ora molto si è scritto, molto si è detto in relazione a quel circuito elettronico trovato nell'auto della vittima e che apparentemente sembra un circuito telefonico. ne è convinta la dottoressa Carie Sastori, ne è convinta la voca di Ingroia, insomma, ma non ne è convinta la parte relativa alla famiglia di origine di Alice. Ora non è, in effetti poi non ne è convinta, forse non mi sono espresso cosettamente. Cioè si dice, per quello per lo meno che ho visto e che ho letto, dice no, non è in tutti i casi il cellulare di Alice perché la conformazione di questa scheda elettronica non sarebbe relativa a quel modello, diciamo, di cellulare che usava la Alice nere. E quindi si continua su questa cosa. Ora, ciò che induce a pensare che quella scheda sia riconducibile a un cellulare è l'assoluta mancanza di cablaggi. I cablaggi sono presenti dappertutto nelle autovetture e abbiamo visto anche da alcune foto che sono innumerevoli, questi fili sottili che ovviamente collegano un po' tutto. Invece no, questa scheda elettronica è senza fili, diciamo così, senza cablaggi e quindi potrebbe essere di un cellulare. Però non è stato ritenuto di dover fare ulteriori accertamenti, ulteriori incidenti probatori proprio perché forse è una perdita di tempo, forse è una scheda rovinata dal fuoco. In parte sembra di sì, non ne capisco, però già quel colore verde che ha conservato beh, significa che non è stata proprio attinta a pieno. Però il problema qual è? è che in questa lotta fra è il telefono di Alice o non è il telefono di Alice è qualcosa però di surreale perché se si dicesse no assolutamente quella è una scheda appartenente, non so, all'autovettura, capirei pure. Ma quando si dice no, non è compatibile perché leggermente di un'altra forma rispetto al modello che usava Alice, lì mi vengono delle perplessità perché non voglio entrare nel merito tecnico specifico perché non ne capisco tanto, però è di tutto evidenza che nel momento in cui comunque fosse una scheda di un cellulare e allora sarebbe ancora più interessante perché voi pensate che non sia del cellulare della Neri ma sia di altro cellulare. Allora cosa possiamo pensare? Di chi era quel cellulare nell'autovettura? Certamente di chi era salito a bordo, di chi stava con lei, di chi è stato con lei, di chi l'ha raggiunta, di chi... Certamente se è di un cellulare quella è probabilmente la firma dell'assassino perché non credo che la vittima portasse altri cellulari di altre persone in macchina. Quindi sarebbe interessante che qualora l'Avvocato Ingroia ritenesse di dover fare magari accestamenti per proprio conto richiedendo la restituzione del reperto di vedere se in tutti i casi almeno quella è un reperto riconducibile a un cellulare e da lì si aprirebbero nuovi orizzonti perché vedete la scena del crimine è disegnata abbastanza bene soprattutto da quando la dottoressa Cattaneo ci ha parlato di una scena del crimine in cui c'è un'arma da taglio in cui c'è un coltello abbastanza grande diciamo non sappiamo ancora ma se è vero che la vittima è stata attenta da alcune coltellate è anche facile immaginare che queste coltellate non siano state date in macchina per due motivi uno perché nella macchina i movimenti sono limitati quindi non si ha la forza come dire cinetica proprio dell'accortellamento almeno in forma grave e poi diciamo ce lo dice anche quella spallina a 11 metri quindi si configura una scena del crimine violenta con magari la vittima che cerca di scappare viene raggiunta e viene ferita a morte e quindi anche la spallina che che salta possiamo immaginarci una scena del crimine svolta magari anche più lontano dei 11 metri perché a 11 metri la spallina è saltata lì magari anche per trascinamento quindi possiamo anche immaginarci una scena del crimine al 20 al 30 40 metri o chissà 50 metri dalla macchina non sappiamo esattamente ed è forse in un cerchio molto più largo che potrebbe trovarsi qualcosa relativo a quella collana che manca quella collanina di oro e diamanti che non può essersi sciolta nell'incendio soprattutto questi diamanti quindi è importante che la dottoressa Cattane ci dica effettivamente ci confermi la dinamica perché è una dinamica anche che configura una rabbia una rabbia forte perché l'arma da taglio è compatibile con questa dinamica e poi e poi il corpo messo nel portabagagli è un'altra dinamica compatibile con questa uccisione con l'arma da taglio perché perché se il delitto è avvenuto fuori dalla loro vettura e poi il corpo trascinato è di tutta evidenza che un corpo purtroppo in quella condizione è più facile metterlo nel portabagagli e chiudere che non aprire le portiere laterali e sistemarlo magari dentro in qualche modo e capirete la dinamica è molto più semplice metterla così così ha fatto pure ad esempio in quest'altro caso di cronaca avvenuto nella mia zona qui dove è morta quella povera signora Anna Scala ebbene lì il compagno che l'aspettava per ucciderla proprio con un'arma da taglio con numerose coltellate cosa fa purtroppo aggredisce vigliacamente ovviamente la donna che cade poi esanime e lui prima di scappare via la prende apre il portabagagli e la mette dentro quindi non è che vada ad aprire le portiere laterali perché sarebbe stato un'operazione più complicata quindi diciamo è compatibile con ciò quindi questa è la dinamica che di cui noi aspettiamo confermo ovviamente e come pure come pure vi ripeto sarebbe interessante almeno accettare che questa scheda questa scheda elettronica sia comunque di un cellulare o di Alice e ancora più interessante sarebbe se non fosse di Alice stessa potrebbe averlo dimenticato l'assassino quindi è un assassino che perché lo dimentica lo dimentica perché c'è fretta perché se come sembra un po' quasi tutti concolti nell'incendio intorno alle 6 e 15 6 e 30 6 e 15 comunque dopo le 6 è di tutto evidenza che c'è fretta molta fretta e nella fretta sapete non è che si fanno proprio tutte le cose tutte le cose insomma secondo una teoria e allora bisognerebbe poi vedere chi si colloca sulla scena di questo crimine con con la benzina innanzitutto la benzina con il coltello bisognerebbe di costruire questa crimine dinamica poi ci aspettiamo pure che come è stato annunciato in questi giorni anche alcune altre testimonianze testimonianze prove perlomeno difensive che sono state preannunciate dall'avvocato Ghini è filtrato su alcuni osgoni di stampa anche la notizia di una testimonianza di questo datore di lavoro all'estero dove lui è andato dopo otto giorni che si dice confermerebbe il fatto che lui era già atteso al lavoro in epoca non sospetto insomma se fosse così certamente ci sarebbe sempre questo cerchio che non si stringe perché si è parlato sempre di fuga precipitosa e poi questa fuga precipitosa se oltre a essere dopo otto giorni va ad essere in un lavoro dove magari il datore di lavoro dice si doveva venire proprio in questi giorni a lavorare e dove egli va a lavorare e posta anche dei video delle foto non lo so nelle quali fa vedere che sta lavorando certamente è qualcosa di anomalo per uno che sta in fuga e uno che sta in fuga innanzitutto fugge e scappa via subito non dopo otto giorni ma poi cerca di non farsi vedere di non farsi notare quindi tanti dubbi bisognerà verificare ancora tutti gli alibi delle delle persone penso pure a quello marocchino quello muhamed il marocchino che di cui nessuno parla però c'è sempre un punto interrogativo su ma sempre su questa persona che c'è anche lui come amico come collega nella vita di di Alice e che sempre stranamente lui sempre il giorno dopo c'è 24 ore dopo il fatto vola via in Marocco ora sarebbe opportuno e crede che sia stato fatto credo io ma non se ne è saputo la notizia se questa persona il biglietto aereo che credo che sia andato con l'aereo ma comunque se il biglietto del viaggio lo abbia preso già in epoca non sospetta cioè molto prima o lo abbia preso un last minute proprio all'ultimo momento che farebbe vedere poi questo acquisto in modo più sospetto comunque bisognerà verificare tutti gli alibi e tutti i movimenti perché se questo incendio è dopo le sei bisognerà vedere bene tutto perché che ne dicano alcuni che ormai c'è questo luogo comune del cerchio che si stringe ma io credo che bisognerebbe allargare questo cerchio perché le perplessità aumentano aumentano giorno per giorno e e a me credo che aumenteranno ancora quindi questa questa vedete è un'estate molto calda come saprete anche se dicono che oggi domani rinfresca finalmente però per il caso di Alice penso che farà caldissimo in questo in questo fine di agosto quando insomma alcuni nodi verranno a pettine e ci saranno tante cose ancora da chiarire vi credo aggiornate quindi grazie a molte un abbraccio a tutti quanti voi e buona domenica a tutti